Il Verona, benché ancora privo di due pedine importanti come Elkier e Ferroni, si è subito scrollato di dosso la compagnia dell'Inter dalla testa della classifica, dimostrando di godere ottima salute. I gialloblu hanno dominato in lungo in largo un Ascoli che prima ha cercato di difendersi e poi non ha saputo o potuto organizzare una valida reazione. I gialloblu passano meritatamente al ventottesimo, Marangon da una buona palla di Gennaro che fa partire questo bolide, traversa e rompe Galderisi che insacca. Due minuti dopo il Verona sfiora il raddoppio in azione Sacchetti, respinta della difesa e Marangon calcia fuori. Al trentunesimo splendida intesa fra Galderisi e Briegel, il tedesco tira di testa al volo e Schiavi respinge in angolo. Sulla stessa azione di calcio d'angolo battuto da Fanna, l'ex Dirceu perde un contrasto con Sacchetti. Ecco Dirceu e il tiro di Sacchetti sorprende tutti ed è il 2 a 0. Al trentaseiesimo il Verona potrebbe incrementare il bottino calcio d'angolo di Fanna a testa di Di Gennaro, la palla rimbalza su Perrone e quindi sulla traversa e poi viene alzata da Corti. La partita termina con l'unica azione pericolosa dell'Ascoli, Ascoli che ce l'ha messa tutta ma con questo Verona non poteva fare molto di più.